Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui come sempre visto che inizio mese con un bel lotto interessante roba Yugi roba poca un po un mix di tanta merda mettiamola così però a questo giro abbiamo un problema nel senso da come avete potuto vedere è stato aperto dalle poste ovviamente mi è stato chiesto ma il pacco lo vuoi o lo rispediamo al mittente io ovviamente rinuncio a tutta questa roba ovviamente no assolutamente però c'è il dubbio sono stato scammato oppure no ovviamente non da ragazzo ma da qualcuno che si potrebbe essere fregato qualcosa mettiamola così tanto considerando il mazzo traptrix e got diciamo carta più carta meno mi cambia poco ovviamente però ragazzi prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jackstock il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo procediamo allora allora apriamo subito e vediamo se a questo giro azz 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 carte messe così sono un po una merda sono un po preoccupato per le condizioni poi abbiamo questo scatolone pieno di roba vuoi pure gli elastici mamma mia ci siamo proprio vabbè da ben vediamo allora iniziamo da questo e vediamo effettivamente cosa c'è dentro dovrebbero essere tutte common si si è roba giapponese comunque sono belline hanno dei belli art però ovviamente ragazzi voi non state qua per vedere poco ma che merda col dritto un po rovescio no il livi che usciva da me che se non sbaglio e poi vabbè vabbè è un po sì un po roba random aveva tanto queste sono tutte common questi dovrebbero essere altrettante common e vediamo si da qua non mi posso aspettare niente che cazzo di roba è questa roba promozionale va bene mettiamola via buttiamo via sta roba e andiamo alla roba un pochino interessante sia di yugi che di poco fermi un secondo ragazzi se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace commentare e iscrivervi a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme soprattutto se entro fine anno vogliamo itare 5k grazie infinite ovviamente a chi lo farà lo andiamo prima con queste ragazzi allora quando spedite le robe non mettete gli elastici perché sennò rimangono i segni in questi bordi qua e non è bellissimo di questo bls fra un po in giappone stamperanno anche la versione normale sarà sui 3k di minimo speriamo che sia recuperabile bls mago nero ragazza maga nera gaia vabbè un po di merda random dovrebbe essere tutta dalla collezione leggendaria qui i gld si tutte in inglese bravia griffore poi vabbè elfo mistico vabbè qua ragazzi dovrebbero essere tutte common eh si vediamo se ce n'è qualcuno interessante polimerizzazione può essere carina questa forza riflessa si può giocare nei formati e basta andiamo al secondo mucchietto e vediamo allora abbiamo anfora della verità poi paladino vabbè tutti i maghi mago nero i congegni vabbè ragazzi sta roba l'abbiamo vista 100 volte tanto non è la prima volta che ne apro una né in video né in lotto andiamo col terzo abbiamo chimera tartaruga elettromagnetica dark ray one black illusion oh già queste sono più belline abbiamo il set delle tre carte promo queste non sono male il token valkyrie uno spade rivelatrici forza riflessa foie vabbè non deve mai mancare e poi per il resto abbiamo tanta palta che neanche nei formati passiamo adesso al mucchio un pochino più interessante ma quello nel pratico sistemato peggio allora abbiamo cappello bianco 6 verso in due per 6 net recupero 6 net recupero di nuovo ragazzo widget in tre per poi andiamo oltre uh bello e questa è carina dovrebbe stare a 2 3 euro strego nel caos stessa cosa o poi un po di roba pokemon tanto sarà un mix continuo di roba o geridos da evoluzioni carino poi poi abbiamo vabbè al roba samurai e un altro cappello bianco sei verso ma vediamo e voglio perché l'ho presa sta roba e vediamo o ecco una ultimate decollare decollare o celestia bella bellina poi al sarango magico nero sonico questa è tutta roba che dovrò caricare o maestro armatura allarmata gold bellino così anche il lustro drago allora poi giriamo questo tempest che ha visto effettivamente i giorni migliori o sempre tornare utile allora abbiamo un po di olo in giapponese di pokemon dell'ero questa della leggenda di mio molto bellino questa roba vecchia u bello del catty olo storia quasa che è vergognosamente brutto o bello arceus livello 100 ragazzi il cosmo è la rarità più bella che esiste più della secret di yugi o della ultimate poi mago nero tune questo charizard un altro charizard ingdra delta specie poi quest'altro arceus livello 100 l'incuribu in tre per ragnolink in tre per che non sono assolutamente male un braccio dexodia a caso poi vediamo abbiamo questo obelisco tormentatore slai ferrà carte a caso bello questo curi bandito poi abbiamo i vari pezzi dexodia che non sono male dovrebbero stare tipo a 2 euro l'uno una roba del genere andiamo a vedere queste ultime che un po un disastro un altro strego nel caos gold che assolutamente non è male per i formati gotto non per i formati per il formato gotto per concludere boh carte a caso va bene qua boh vediamo pure questo che non mi ricordo se l'ho già visto mamma mia quanta palta allora atena boh non ricordo neanche perché l'ho preso sta roba va bene il dubbio si tira su tutto oh pentacervo non è male uno me lo devo tenere perché non ce l'ho per me adesso vediamo poi falco finale da sciva che dovrebbe stare a qualcosina uh ah cazzo max c totalmente inaspettato top e va bene ragazzi il video finisce qua ho controllato mi sembra che ci sia tutto se non sbaglio ma vabbè meglio così almeno poste non si sono fregate niente fatemi sapere qua sotto con un commento se ne è convenuto o meno acquistarlo e nel caso quanto avrei dovuto pagare questa roba e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti